Perché creare il tuo chatbot applicato alla tua pagina facebook ed eventualmente farlo vedere anche sul sito internet per due motivi essenziali. Il primo perché automatizzi le comunicazioni con i tuoi clienti e le rendi disponibili 24 ore su 24 in tempi rapidissimi e istantanei e l'altro vero motivo che rimane sempre di solito un po' celato nell'ombra ma che ti rivelo oggi è che non appena un tuo potenziale cliente o cliente fa un'interazione col tuo chatbot viene inserito all'interno di una audience di una lista di direct marketing attraverso la quale potrai mandare su facebook messenger dei messaggi diretti e in target ai tuoi potenziali clienti e clienti. Automazione da una parte direct marketing dall'altra le due motivazioni per le quali devi installare il tuo chatbot all'interno della tua pagina facebook. Se ti piacciono i nostri consigli di marketing collegati a luma.marketing.blog www.luma.marketing.com